Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che per il momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. Si consiglia prudenza a causa del maltempo che sta interessando gran parte delle tratte stradali e autostradali della Toscana. Sulla statale Unaurelia si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Rosignano Marittimo che è chiuso in entrata e in uscita in direzione Livorno. Traghetti a causa del maltempo e torremare diretti da Piombino a Cavoporto Ferraio sono stati cancellati negli orari 8.40, 12.20, 14.55 e 16.40. Cantieri di Firenze per lavori sulla rete idrica in Piazza Mozzi fino al 24 dicembre di vieti di sosta e restringimenti di carreggiata e per il momento è tutto Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie! Grazie!